Grande successo per l'SD Jiu Jitsu Academy che conquista con i suoi atleti aquilani ben tre medagli in occasione della prima tappa del campionato nazionale Master 2018 di Judo che si è svolto a Genova domenica 18 marzo dove hanno partecipato atleti esperti provenienti da tutta Italia. Mosella Molinara ha conquistato il bronzo nel prestigioso trofeo Città della Lanterna con un irresistibile Ippon, un plauso particolare a Giampaolo Petrollini che ha affrontato con coraggio la gara nonostante un infortunio subito durante la preparazione e che ha conquistato la medaglia di bronzo sul tatami del Palasport RDS Stadium 105 di Genova con un Ippon spettacolare che ha suscitato l'ammirazione del forto pubblico presente. Buona anche la gara di Francesco Bafile salito anche egli sul terzo gradino del podio arricchendo il palmares dagli atleti aquilani con un altro bronzo. La gara ha visto l'esordio nella categoria Master di Federico Iannucci che nonostante la sconfitta ha mostrato tutta la sua grinta e il suo coraggio nell'affrontare avversari di prestigio nazionale. Le cinture nere della Giugizio Academy dunque si sono fatte rispettare portando a casa oltre le medaglie e la grande soddisfazione per il meritato successo anche preziosi punti del campionato nazionale. Ancora una volta il giudacuilano si è piazzato ad alti livelli nelle competizioni nazionali e l'orgoglio per la nostra città che ci spinge a fare sempre più risultati importanti. Sono le parole al termine della gara di Mosella Molinara, presidente nonché atleta della Giugizio Academy.